brabus non credo se possa fare questa cosa vaffanculo a metà freccia del cazzo stai al telefono passerà col rosso? certo te pare non credo non credo non credo sì Grazie a tutti. 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 No, 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 no. Grazie a tutti. Oh, no, 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 no. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh, no, 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 no. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tiriamo un po' di... 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 un po'... un po' di...